Cari fratelli e sorelle dei gruppi di preghiera di Padre Pio, siamo nati nel suo cuore in tempi difficilissimi, in tempi di guerra, in seguito all'appello di Papa Pio XII a pregare per la pace. Ci ha affiancati a casa sollievo definendoci vivai di fede e focolai d'amore per rendere presente il Signore là dove c'è sofferenza. Il momento che stiamo vivendo a livello italiano e mondiale ci rimanda esattamente alla nostra missione, a quanto Padre Pio ha pensato nel suo cuore e come ci ha visti. È difficile riunirci a pregare insieme perché rimaniamo isolati nelle nostre case, ma ognuno di noi è una persona di preghiera del gruppo di preghiera e attraverso gli strumenti di oggi possiamo comunque rimanere uniti in alcuni momenti e pregare insieme, pregare e affiancare casa sollievo e tutti i luoghi di ospedale dove si sta curando e lottando questa guerra contro il coronavirus. Questo mio è un appello a unirci insieme in preghiera attraverso la tv, la tv di Padre Pio, domenica prossima alle ore 18, quando celebrerò l'Eucarestia nella cripta di fronte alle reliquie del nostro Santo e al crocifisso delle stigmate. Sarà occasione per supplicare insieme Padre Pio e la Santissima Trinità perché allontani dal mondo questo fragello. Mi chiedo quello che disse Padre Pio stesso e questo è il nostro momento, rimbocchiamoci le maniche, diamoci da fare e il tempo di preghiera e il nostro tempo e la nostra missione. Pregate e vi aspetto a pregare tutti insieme domenica prossima alle 18 dalla cripta di Padre Pio San Giovanni Rotondo. Grazie dell'appello di questo ascolto e ci uniamo tutti insieme.